L'Unione Europea ha dichiarato ufficialmente battaglia contro i trafficanti di esseri umani. Via libera all'unanimità la prima fase della missione militare navale per combattere la tratta di migranti nel Mediterraneo. Obiettivo la lotta agli scafisti, come ha sottolineato l'alto rappresentante europeo per la politica estera Federica Mogherini. Voglio essere molto chiara, il target non sono gli immigrati ma coloro che stanno facendo soldi sulla loro pelle e troppo spesso anche sulla loro morte. Il nostro impegno è salvare vite umane. Soprannominata EU Nav4Med, questa forza di intervento avrà il suo quartier generale a Roma. Sarà composta da circa 1000 uomini, 5 navi da guerra, 2 sottomarini, 3 aerei da pattugliamento marittimo, 3 elicotteri e 2 droni. I primi mezzi dovrebbero essere dispiegati nel giro di una settimana. Lo scopo ultimo della missione sarà quello di bloccare i barconi nelle acque libiche, con un particolare di non poco conto. Per fare questo si dovrà infatti attendere una risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, il beneplacito della Russia e l'assenso di un governo di unità nazionale libico, la cui formazione non sembra così vicina come spera invece l'Europa stessa. La seconda fase della missione riguarderà la cattura degli scafisti in acque internazionali, mentre la terza in acque territoriali e interne della Libia. Secondo l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, da gennaio a fine maggio sono stati più di 100.000 gli immigrati che hanno attraversato il Mediterraneo su gommoni e carrette del mare, senza contare le vittime, quasi 2.000. La creazione di questa missione navale era stata decisa nel mese di aprile, dopo il naufragio del peschereccio a largo della Sicilia, dove morirono quasi 900 immigrati. Un'emergenza questa che riguarda principalmente l'Italia, ma non solo. I centri di accoglienza nel nostro paese sono al collasso e il Premier Matteo Renzi ha nuovamente lanciato l'appello ai colleghi europei a non lasciare sola l'Italia. E mentre si cerca un accordo sulla distribuzione dei rifugiati, tra i vari stati membri, il ministro dell'Interno francese insiste che la frontiera con l'Italia a 20 miglia non è assolutamente bloccata.